Io sono Liria Iacomo, sono Center Exams Manager per Cambridge English, tra l'Agrigento e il Cartonissetta, presso le due sedi dell'Eurolimio. Abbiamo due centri, appunto, Eurolimio, che sono centri autorizzati per le certificazioni Cambridge. Sono certificazioni di importanza internazionale, di notevole rilevanza, appunto, perché danno la possibilità ai ragazzi di spenderli sia come crediti scolastici, come crediti universitari, nei concorsi, nel lavoro, insomma. Quindi sono dei certificati che aprono veramente tantissime porte. Oggi siamo qua proprio per festeggiare e dare anche una soddisfazione a questi ragazzi che si sono impegnati per affrontare gli esami Cambridge e quindi ottenere una certificazione. Daremo i certificati delle sessioni del 2015, quindi dell'anno scolastico passato, e assegneremo anche delle borsi di studio e dei premi ai ragazzi che si sono distinti per, appunto, impegno, che si sono distinti nei risultati degli esami o che si sono distinti all'interno del corso come ragazzi, insomma, particolarmente motivati. Quindi vogliamo, in qualche modo, dare loro un ulteriore premio, un ulteriore soddisfazione perché raggiungere un certificato, ottenere un certificato Cambridge è sempre un grande traguardo nella vita, che sia un certificato per bambini starters o che sia un certificato per grandi, per adulti, proficienzi, è comunque un traguardo che va ricordato e che va sottolineato appunto per l'impegno che i ragazzi mettono. Io sono invece direttore didattico di Tolomparido, mi occupo non solo della gestione del corso, ma anche della programmazione. Oggi avere una preparazione linguistica è diventata quasi essenziale. I nostri esami danno la possibilità agli studenti, non solo agli studenti, anche alle persone che si affacciano al mondo del lavoro, dando quella cosa in più, perché le aziende oggi come oggi non si accontentano semplicemente di un'ottima conoscenza lingua inglese sul curriculum, ma vogliono proprio la certificazione che attesta il livello e la preparazione degli studenti. Nelle nostre sedi, noi come centro esami Cambridge offriamo veramente un servizio a 360 gradi, nel senso che seguiamo gli studenti dall'inizio del corso sia dell'inglese generale, ma anche per la preparazione dell'esame in se stesso. Quindi diciamo che il nostro livello di successo è una fonte di orgoglio costante per noi, perché veramente otteniamo degli ottimi risultati, quindi grandi soddisfazioni. Grazie.